Ehi Chiama casa Sto chiamando casa Ehi Avvia voice access Apro voice access Chiama casa Messaggio gratuito Chiamata personale Tim, free message Ciao amici, benvenuti in questo nuovo video. Oggi andremo a trattare un argomento che vi sta molto a cuore. Quale? La chiamata vocale. Questa benedetta chiamata vocale. Torneremo a parlare del nostro da salida, poiché come vi siete accorti un po' tutti l'assistente di Google non porta più a termine questa operazione. Quindi andremo a bypassare l'assistente e andremo a portare a termine la chiamata vocale con un'altra applicazione. Che sto provando e testando e pare che funzioni bene. Poi ricordatevi nella descrizione del video ragazzi vi lascio, oltre alle cose che magari dimentico, vi lascio anche il link del mio driver dove all'interno trovate una cartella zippata con dentro le applicazioni necessarie per poter eseguire questa guida. Detto ciò, andiamo a vedere subito, nel particolare, tutti i passaggi. Siete pronti? Io da un pezzo che sono rotto. Voi, andiamo! Allora, eccoci qua ragazzi. Scaricata la cartella del mio drive, scompattata sul pc, andiamo a copiare la stessa in una pendrive. Poi, andiamo a inserire su una porta libera USB, il nostro da site, andiamo a aprire il nostro file manager, ok? Andiamo sulla porta USB, dove andiamo a inserire la nostra chiavetta e la cartella, allora, vediamo come si chiama, che non lo ricordo più. Eccola qua. Applicazioni chiamata vocale. Quindi, io rinominerò questa cartella che scaricherebbe dal mio drive in questa maniera. Applicazioni chiamata vocale. Installiamo mtc dealer. Continua. Installa. Fine. Poi, andiamo ad installare questa applicazione. Continua. Installa. Ok. Torniamo alla home. Poi, possiamo mettere l'icona di questa applicazione direttamente nella barra di stato sotto. Quindi, andiamo a cercare questa applicazione. Teniamo premuto su questa applicazione e facciamo pinup. E questo ci viene qua sotto. Allora, le applicazioni sono state installate. Adesso, andiamo con ordine. Dobbiamo avviare questa applicazione. Quindi, clicchiamo su questa applicazione. E dobbiamo consentire l'accesso. Facciamo ok. Poi, qui dobbiamo, vedete, su accessibilità. Dobbiamo cliccare sulla voce e consentire l'accesso. Ok? Dobbiamo fare consenti. Poi, qui vi suggerisco di spuntare questa opzione di interrompere la ricerca vocale dopo 30 secondi. Poi, andiamo su continua. E dobbiamo consentire l'accesso alla registrazione audio. Facciamo continua. Ancora. Avanti. E qui dobbiamo consentire l'accesso alle telefonate. Per gestire la telefonata, facciamo consenti. Andiamo ancora avanti. E finiamo. Torniamo alla on. Quindi, adesso, quando dobbiamo andare a fare una telefonata vocale, una chiamata vocale, possiamo andare a cliccare direttamente su questa icona e chiedere di effettuare una chiamata, senza passare per l'assistente di Google. Vi faccio vedere. Chiama Lucilla. Dobbiamo, intanto, consentire l'accesso per i contatti, come vi dicevo prima. Una volta che abbiamo consentito l'accesso ai contatti, poi, vedete, qui ci chiede con cosa vogliamo completare la, diciamo, la telefonata, la chiamata. E, siccome abbiamo installato mtcd, dobbiamo fare sempre. Quindi, quando ci viene questo menu, dobbiamo completare l'azione con mtcd e dare sempre. In modo che così non ce lo chiederà più. Una volta che è stata configurata questa applicazione, voice access, abbiamo dato i permessi alle telefonate, abbiamo consentito al mtcd di far terminare la chiamata, basta poi cliccare su questa applicazione e chiedere qualsiasi cosa. Chiama Samuele. Beh, mi sono creduto. Chiamata personale. Sì. Ok, possiamo chiedere anche di aprire le applicazioni, è la stessa funzione dell'assistente di Google. Per esempio, avvia YouTube. Avvia la radio. Ok. Poi, rimane sempre in ascolto per 30 secondi. Dopodiché l'opzione che abbiamo dato, noi che dopo 30 secondi si disattiva. Vi faccio vedere. Per richiedere altre operazioni, dobbiamo andare a ricliccare sull'applicazione nella barra di stato. Con questa applicazione possiamo fare di tutto e di più. L'unico inconveniente è che praticamente dobbiamo cliccare su questa applicazione. Non è che si può avere il mondo. Cosa vuole di più dalla vita? Un lucano? E ve lo offro io. Cosa vuoi di più dalla vita? Oh la madonna! Possiamo anche, tramite l'assistente di Google, aprire quell'applicazione. Eh? Vediamo. Avvia Voice Access. Chiama Lucilla. E noi, abbiamo fottuto il nostro assistente di Google. Bene amici, anche per oggi è tutto. Questo video termina qui. Se vi è piaciuto o vi è tornato utile, come al solito, pollice in su. E iscrivetevi al canale se vi fa piacere. È sempre cosa gradita. Ma soprattutto lasciate un commento sotto al video. Se questa guida è funzionante, si può perfezionare, avete dei suggerimenti, avete delle dritte in più. È tutto ben accetto dalla comunità. Quindi, chiunque abbia un da saida o un altro cartablet, può sicuramente tornare utile in qualsiasi consiglio in più. Ciao ragazzi, e alla prossima. Ciao. 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 Ciao.